Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da penne e papiri dal titolo Medioevo sulla testa, copricapo e acconciature maschili e femminili fra 300 e 500 di Sara Piccolo Paci, non ho mai imparato, alla quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante volume. Prego Sara, a te. Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti qui e quindi di sentirci. Il libro di cui parliamo oggi è un testo su cui ho lavorato per molti, 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 molti anni, semplicemente perché è sempre stato parte dei miei interessi. Nella prefazione spiego subito che nasce da un'amicizia che è nata tra me e una molto giovane Sara di 20 anni e una signora molto anziana all'epoca, che era assunta alla Rocca, che era colei che faceva i cappelli per il teatro La Pergola, per la Cerratelli della Pergola. All'epoca io ho cercato di imparare quello che potevo, poi c'è stata una seconda occasione di lavorare con lei perché con gli occhi di Piero la mostra del 92 implicava la creazione di cappelli ispirati alle opere di Piero della Francesca e lì di nuovo Assunta mi insegnò come fare i cappelli. Quindi io so anche fare i cappelli, effettivamente. Un'altra delle cose che mi piace fare è appunto applicare la teoria alla pratica. Come faccio con gli abiti, così faccio anche con i cappelli. Dal punto di vista sartoriale, però non proprio dal punto di vista del cappellaio con il feltro e le macchine a vapore, quello non è la mia specialità. Lo faccio ma non è la mia specialità. Detto questo, nel corso dei decenni ho continuato ad occuparmi del cappello sotto vari aspetti e mi sono resa conto che c'era una sorta di buco di informazioni perché essendo un argomento molto complesso e molto vasto, il periodo che mi interessava in particolare era quello tra la fine, tra il 200, metà del 200 e il 500, non era spesso analizzato nel dettaglio. Vale a dire ci sono moltissimi testi che io ho usato tutti, fatti molto bene che parlano dei copricapi specifici per un periodo o per genere, quindi maschili, femminili, ma non c'era una visione di insieme un pochino più specifica. Allora io ho cominciato, era già stata occasione della mia tesi di specializzazione questo tipo di impronta, avevo già fatto una tesi specialistica proprio sullo studio dei copricapi nella miniatura tra fra 3 e 500 e ho approfondito l'argomento. Quindi il volume è cresciuto ed è arrivato ad essere quasi 300 pagine praticamente di testo in cui ho elaborato anche diverse teorie che secondo me sono abbastanza innovative per certi aspetti. Sarebbe bene che se lo leggessero sia i rievocatori sia anche gli storici dell'arte perché alle volte anche gli storici dell'arte prendono qualche cantonata quando si parla di abbigliamento. Anche i rievocatori eh? Dipende, anche i rievocatori. Comunque per farla breve vi farei vedere qualche immagine perché io sono una persona visiva e quindi amo vedere le cose e vediamo se riesco a condividere con voi questa presentazione. Vediamo un attimo. Ecco, questo è il come si presenta il libro e come vedete dall'immagine è abbastanza eh tosto tosto, diciamo così, è abbastanza pieno. Una delle caratteristiche è stata proprio quella di fare delle schematizzazioni, quindi cercare di capire di cosa sono fatti i copricapi. All'inizio c'è quindi un capitolo dedicato ai materiali perché una cosa di cui mi sono resa conto è che spesso questi materiali, cioè si descrive l'aspetto del copricapo ma non si capisce bene il materiale e non capendo il materiale non si capiscono per esempio chi produce cosa, le produzioni o anche semplicemente chi indossa cosa. E allora qui questo è un primo schema, ovviamente sono tutti schemi che sono ipotesi di ricostruzione, ipotesi di valutazione perché la prova provata avrebbe bisogno di un lavoro molto più intenso di quello che ho fatto io, a cui si sono dedicati alcuni storici e che da cui ho tratto le informazioni che mi interessavano chiaramente. Però per esempio le cuffie nel periodo che ci interessa tra 300 e 500 possono essere in lino, possono essere in seta, possono essere in velluto, possono essere in maglia. La maglia può essere fatta di varie tipologie, poi possono essere in nadelbinder, possono essere ai ferri, può essere anche più complessa, di vario tipo. Già questo ci dice che può essere utilizzato da diverse categorie di persone. Maglia e lino erano abbastanza raggiungibili da più categorie, la seta e il velluto chiaramente non proprio. E così via, si notano delle cose interessanti per esempio sull'uso del cappuccio. Il cappuccio può essere in lana, in seta o in velluto. Sul cappuccio mi si è aperto un mondo, perché molto banalmente vi dico che Robin Hood vuol dire Robin cappuccio, ma in realtà l'iconografia che va per la maggiore oggi vede un Robin non con un cappuccio, ma con un cappello a punta, un cappello a beck, come viene chiamato a volte. Uno si chiede ma perché? E in effetti c'è un perché, ma non ve lo dico, così vi leggete il libro. E poi vado avanti e di questa sono abbastanza orgogliosa perché è una cosa veramente un po' complicatina. Scusami, ti metto giù, non so se poi ti si vedrà, ecco meglio, così ti si vede meglio. Queste sono le possibili ipotesi di relazione tra copricapi di certi generi, di certo tipo. Non è detto che siano del tutto così. Leggete il testo, nel testo è esplicito meglio quelle che possono essere le varie relazioni e perché hanno questo tipo di genesi. Una cosa di cui sono molto molto contenta, per esempio, è l'analisi che ho fatto, anche grazie ovviamente a studi precedenti ai miei, del Kamaleukyun e di come si evolve nel mondo occidentale e perché si evolve in quel modo. È legato al copricapo ecclesiastico. Tra virgolette oltretutto il copricapo ecclesiastico sarà anche una delle ragioni per le quali fra il periodo che ci interessa, tra il 200 e il 500, anche i laici avranno questa passione per il cappello. Perché c'è da dirlo? Il periodo di cui mi sono occupata vede proprio una grandissima attenzione al copricapo. Il copricapo non è affatto un accessorio, nel termine che lo utilizziamo oggi, ma è parte componente essenziale dell'identità delle persone e rappresenta ben specificatamente chi era cosa e cosa faceva. Per cui vi è una consapevolezza dell'uso del cappello che è molto maggiore di quella che fino adesso è stata ipotizzata. Vi sono una serie di cappelli, tra cui il cosiddetto Ennin, che poi non si chiama Ennin affatto ma piuttosto si chiama Turez o hanno altri nomi, cappello a punta, ci avrà anche diverse declinazioni. Il cappelli alla di là, come venivano chiamati qui in Italia, ovviamente in Francia non venivano chiamati alla di là assolutamente, avevano tutti i loro termini che ho trovato, si tratta di chaperon in generale. E poi lo chaperon appunto e il mazzocchio. Questi quattro copricapi sono in buona sostanza legati insieme perché sono tutti delle più o meno evoluzioni dal cappuccio appunto, dal cappuccio banalmente inteso trecentesco. Sono evoluzioni che però hanno necessità di un implemento che è il materiale che vi si aggiunge a un certo punto che è la borra. La borra è il cascame di risulta di di solito della lana, anche del lino e che viene utilizzato per realizzare una parte imbottita, il famoso cerchione, il famoso mazzocchio che noi utilizziamo come termine in italiano. Questo mazzocchio però è modellabile e quindi cambia e prende forme diverse ed ecco che lì si inseriscono quindi valutazioni differenti. Quindi questo giusto per iniziare. Vuoi dire qualcosa anche te, visto che io sono overwhelming, come si dice? No, 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 io ascolto con grande piacere perché è un lavoro davvero importante questo, bisogna bisogna seguirti. Ok, allora vi faccio vedere un'altra particolarità di questo testo perché sapete probabilmente che la situazione dell'uso dei disegni, delle opere d'arte, scusate, delle opere d'arte nei libri adesso è diventata estremamente complicata, estremamente difficile. E questo mi porta spesso a dover scegliere una soluzione che personalmente a me piace molto, però può avere anche delle persone che non la provano. Ma la voglio spiegare per più motivi. Di solito nei miei testi dove faccio un'analisi molto puntuale delle opere d'arte, pubblicare tante immagini di solito a colori di opere d'arte originali è estremamente costoso. Non solo per me, ma anche per l'editore chiaramente, ma anche per il pubblico. Perché chi va a comprare un libro come il mio già costa tanto perché è un bel librone, ma se io ci dovessi mettere i copyright di tutte le immagini che uso per spiegare le cose verrebbe un costo abnorme. Nessuno si comprerebbe un testo del genere e ne avrebbe ragione d'essere. La mia soluzione è quella di fare dei disegni molto specifici che spiegano quello di cui sto parlando. In questo modo il costo si abbatte chiaramente ed è anche funzionale proprio allo studio di per sé. Perché vi ho fatto vedere qui, vedete, questa immagine da cui ho tratto il mio disegno ed è una cuffia a rete molto sofisticata, nell'affresco originale è qua giù. È praticamente impossibile vederla. Insomma, se io dovessi pubblicare questa immagine non avrebbe senso. Avrebbe senso pubblicare questa, ma anche questo è un dettaglio che non mi dice tutto quello che voglio che voi notiate quando si parla di questo oggetto. Quindi la soluzione ideale, secondo me, è proprio quella del disegno, che mette in evidenza solo quello di cui io voglio parlare, che voglio che voi siate consapevoli e che approfondisce in maniera ammirata l'argomento di discussione di cui stiamo affrontando. Quindi la mia scelta ha più di una valenza, più di una ragione, diciamo, d'essere. E se andiamo avanti, la cosa mi aiuta anche ad estrapolare delle possibili criticità. Perché, per esempio, questa è una scena d'insieme molto ricca, molto piena. È un dettaglio, come vedete, tratto dal... Scusate che volevo spostare l'immagine, ma non mi riesce. Ecco, non mi riesce. È un'immagine tratta da un quadro di Nicola di Ulisse da Siena, il quadro del famoso quadro del Sant'Andrea, in cui si parla di una battaglia svoltasi a fermo e avendo protagoniste delle truppe che in un testo importante, che è il catalogo del 400 a fermo pubblicato nel 2018, chi ha fatto la scheda ha notato due elementi e ha tratto delle conclusioni che però non sono corrette. La frase dice, appunto, copricapi arabbeggianti e scimitarre segni esotici di mercenari di provenienza straniera. Se uno analizza la battaglia di fermo, scopre che queste truppe arabbeggianti non esistono, non ci sono. Anzi, si tratta proprio di copricapi europei. E anche la scimitarra è opinabile, perché potrebbe benissimo essere un falcione che viene utilizzato in ambito europeo abbastanza estesamente in questo periodo. L'elemento che fa concludere al ricercatore, all'autore del saggio, che si tratta di truppe esotiche e quindi arabbeggianti, è questo che vedete qui nel cerchio che ho estrapolato. Ma in realtà quello non è affatto un turbante, come potrebbe sembrare. Innanzitutto perché è rosso, e lo vedete qua nell'immagine, è colorato, non può essere. Poi perché è portato su di un elmo? Quello è un bourrelet. Quello è proprio il famoso mazzocchio. Ma è un oggetto del tutto occidentale, che tra l'altro nei libri che parlano di araldica è ben specificato. Infatti sopravvive negli stemmi araldici. Il bourrelet è un elemento di decorazione del cimiero che viene messo negli stemmi araldici. Quindi un elemento visivo preso un po' alla leggera, considerato un po' un turbante generico, ha fatto trarre delle conclusioni errate a chi ha analizzato la scheda. Semplicemente perché si dà per scontato di conoscere il mondo del costume e dell'abbigliamento in maniera più precisa di quello che in realtà è. E questo è stato un elemento che ho aggiunto. Qua e là ci sono delle correzioni di rotta su delle valutazioni che sono state fatte nel corso del tempo su dipinti, opere o anche proprio oggetti copricapo di per sé che secondo me vanno calibrate in maniera un po' diversa. Quindi un elemento giusto per farvi capire che può essere diverso. Un altro aspetto che ho voluto assolutamente inserire all'interno del testo e che trovate le uniche immagini a colori sono pochissime, sono quelle che riproducono ricostruzioni, ipotesi di ricostruzioni di copricapi antichi che ho realizzato io, quindi sono mie opere e che vi fanno vedere come si può interpretare un oggetto che si vede in una miniatura, in un dipinto, in un'opera d'arte. Quindi ho realizzato un touré, in questo caso questo è il touré duegentesco inizi 300, questo è dal codice di Manesse e qui si vede l'oggetto in lavorazione e poi l'oggetto finito e poi ho realizzato questa, questa non ha un nome vero e proprio, è un copricapo pieghettato duecentesco che si trova in alcune iconografie di ambito francese, tedesco ed italiano, questo che in alto proviene da Dijone ed è l'originale che vedete qua, questo invece è del Benedetto Antelami, quindi è del tutto italiano e si tratta probabilmente di una fase di transizione tra la mitria, che poi diventerà la mitria vescovile, prima dell'evoluzione bicuspidale, quindi fatta a forma di cuspide, come dicevo appunto un momento di transizione, quindi un momento in cui si va da una forma che è probabilmente quella del Camaleuchium a calotta verso la mitria trecentesca e infatti è concentrato in un periodo di tempo molto ristretto però in un'area molto vasta e questo è molto interessante, quindi ci ho fatto uno studio un po' approfondito, anche la realizzazione sartoriale non è stata banale perché per realizzare esattamente queste forme, queste curve, vedete che hanno, l'ho messa di davanti e di profilo perché ha queste curve particolari, beh insomma ci ho dovuto lavorare un pochino per riuscire ad ottenere esattamente l'oggetto che che volevo che venisse ottenuto. Quindi il libro ha vari punti diciamo così che possono essere interessanti spero, a me è piaciuto moltissimo occuparmene perché in effetti è il lavoro di trent'anni di studio mi piacerebbe insomma se venisse valorizzato, se venisse valutato. Chiaramente tanto ancora c'è da fare perché questo è veramente un lavoro che è sì conclusione di una serie di studi anche di altri studiosi ma inizio di altri studi di altri studiosi quindi io sono solo un tassello nell'ambito della ricerca, la ricerca poi andrà avanti e altri scopriranno altre cose insomma. E adesso sono a disposizione, Maurizio se c'hai domande. Beh sì no ne avrei tante perché mi immagino un lavoro mostruoso di ricerca e di analisi soprattutto in un settore dove c'è tanta leggerezza per per non dire di peggio e la si vede la si vede di frequente soprattutto nell'ambito rievocativo quindi questo è un libro che tutti i rievocatori dovrebbero avere e quindi io l'unica cosa che posso fare più che fare domande che le quali non sarai in grado perché non mi occupo di abbigliamento e di copricapi è quello di ricordare il titolo del libro in modo che vadano in libreria a comprarlo tenendo conto che il libro si può acquistare anche online sul sito dell'editore che è penne e papiri quindi basta andare su penne e papiri e potete comprarlo oltretutto fino al 31 marzo con lo sconto del 25 per cento quindi è vero è vero costa meno comprarlo dall online insomma dall'editore che di presenza diciamo così un'ultima un'ultima puntualizzazione che mi sono scordata di sottolineare ho parlato sia di abbigliamento di copricapi maschili e femminili quindi c'è un'analisi non solo degli oggetti maschili perché nella piccola presentazione ho messo soprattutto copricapi maschili ma in realtà parlo anche estesamente di alcuni specifici copricapi femminili tra cui alcuni di quelli un pochino più dibattuti come appunto l'ennin cosiddetto ennin che poi non era affatto il nome del tempo chiaramente comunque questa è la valutazione il titolo è appunto medioevo sulla testa faccio vedere magari la copertina no no ma la copertina la vedono la vedono all'inizio del video quindi anche perché è bella quindi merita molto carina è l'unica immagine a colori che abbiamo infatti ed è gratuita perché è della walters art gallery of baltimore che in maniera molto intelligente offre gratuitamente le immagini a chiunque le voglia utilizzare perfetto quindi vi ricordo il titolo che è medioevo sulla testa appena pubblicato da penne e papiri copricapo e acconciature maschili e femminili fra 300 e 500 di Sara Paci Piccolo che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gradito ospite che ce ne ha parlato e io vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove oltre a questa troverete tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi grazie ancora Sara davvero tanto grazie a voi grazie a voi dell'attenzione grazie a voi